Si chiuderà al sabato la serie di impegni di Pugliesi e Lucane nel turno numero 12 del girone C di Serie C, un inedito in questa stagione. I fari sono puntati sul monopoli di Alberto Colombo, l'undici bianco-verde ospita al veneziani il Monterosi, formazione reduce da due K.O. di fila, l'ultimo dei quali per 4-1 in casa contro il Catania. Piccini e Soci si sono rilanciati al terzo posto alla pari con il Palermo e a meno uno dal Catanzaro secondo proprio per effetto della vittoria per 2-1 di domenica scorsa al Ceravolo. Si va verso la conferma del consueto 3-5-2 con Stareta, riferimento irrinunciabile in attacco e il giovane Arena, eroe di Catanzaro con una doppietta, nel pacchetto arretrato. Start alle 14.30. Alla stessa ora va a caccia di conferme invece la Virtus Francavilla. La formazione di Roberto Taurino, tornata alla vittoria dopo quasi un mese grazie al netto 3-0 sul Bari nello scorso turno sarà ospite di una paganese vogliosa di riscattare il K.O. nel derby di Avellino. Tornano a disposizione dopo il turno di squalifica il portiere nobile, il laterale Eniane e il centrale Miceli, mentre non ci sarà centrocampo prezioso fermato per un turno dal giudice sportivo. Il sabato di campo si completa alle 17.30. A Picerno sarà una giornata speciale, quella successiva all'inaugurazione ufficiale dello Stadio Curcio alla presenza del presidente della Lega Pro Ghirelli e della premiazione alla carriera per Zdenek Zeman, atteso da avversario sulla panchina del Foggia. Di fronte due squadre reduci da altrettanti pareggi nella zona sinistra della classifica. A pari punti con il Foggia, a quota 17 punti, c'è il Taranto che alle 17.30 attende allo Iacovone il potenza di Bruno Trocini, rilanciato dalla vittoria dello scorso turno sul Latina. I rosso-blu di la terza vanno invece a caccia del secondo successo di file in casa per restare in piena zona playoff.